Coniugare il progetto con l'urbanistica con l'obiettivo di salvare le case e le attività commerciali che si trovano nell'area in cui dovrà essere realizzato il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. Siamo pronti al dialogo con RFI e con il ministro Enrico Giovannini per concretizzare le strade alternative. Hanno detto oggi a Chieti i componenti della neonata Commissione Consigliare del Comune in vista del dibattito pubblico in programma domani a Pescara, l'evento organizzato dal presidente della Commissione Finanze del Senato Luciano D'Alfonso che sarà un'occasione importante di confronto sul progetto di raddoppio della tratta ferroviaria. Bisogna operare in sinergia e rapidità per predisporre la migliore soluzione in vista della realizzazione dell'opera che sarà fondamentale per il futuro di mezzo milione di abruzzesi, ha detto il presidente della Commissione Vincenzo Ginefra. La Commissione che ieri si è istituita e che ha iniziato già da oggi a lavorare su questa nuova opera che interesserà la città di Chieti, ma un territorio molto più vasto che va appunto da Pescara a Roma, proporrà di verificare tutte le condizioni necessarie per rendere l'opera fruibile e colmeno meno impattante sul territorio. Stiamo verificando i tempi, i modi per le osservazioni per poi fare delle prime proposte sia informali che poi anche formali. Ascoltando i comitati che è fondamentale, ascoltando tutto ciò che può essere utile proprio perché quest'opera che è di fondamentale importanza per lo sviluppo della nostra area per il trasporto, ma anche per tutte le ricadute sociali e economiche che questo comporta, però deve essere un'opera che non deve incidere sulla vita dei nostri concittadini, quindi creare quei stravolgimenti tipo abbattimento case o abbattimento di attività.